Siamo con Alessio Nitti, capogruppo del PD in Consiglio Comunale. Non sono appena state discusse le sue interpellanze. Come mai? Il Presidente sostiene che il regolamento prevede che vanno depositate, presentate, cinque giorni prima della data stabilita per il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale è stato convocato per venerdì e i cinque giorni scadevano domenica. Secondo il Presidente i termini bisogna conteggiarli a ritroso e quindi, poiché nemmeno il sabato ci sono impiegati comunali per poter ricevere l'interpellanza, il termine andava a scadere sette giorni prima. Noi li abbiamo presentati il lunedì perché, sebbene ci può essere un'interpretazione secondo cui i termini vanno calcolati a ritroso, in realtà nella politica, in un contesto come quello del Consiglio Comunale, in cui bisogna soprattutto essere trasparenti, discutere, parlare dei problemi della cittadinanza, mi sembra che questo principio non possa essere interpretato in questo senso. Tutto al più, per garantire il diritto delle minoranze, ma questo mi sembra che sia una prassi consolidata a tutti i livelli, a livello parlamentare, a livello regionale, ma in ogni contesto in cui le minoranze devono essere tutelate, è giusto prorogato almeno alla mattina del lunedì successivo, che è il giorno in cui noi abbiamo presentato le interpellanze. Secondo me, gli argomenti, almeno un argomento che si riferiva alla tenuta della maggioranza, soprattutto del Partito del Popolo della Libertà, in ordine all'approvedimento di Costituzione di parte civile nei confronti del nostro tecnico comunale, forse non era un argomento che il sindaco, l'assessore, il presidente e la maggioranza voleva portare in questo Consiglio comunale, per cui hanno trovato il cavillo per poter mettere una pietà sopra e far sì che non venisse discusso. In realtà loro hanno dato lezione, dicono che questo è il regolamento. Il regolamento, lo possiamo anche leggere, dice che nell'ordine del giorno del Consiglio comunale vanno indicate le interpellanze una per una con il nome, con le generalità di chi le presenta. Questa abitudine ormai, questa prassima, questa regola vera e propria che era rispettata dalla precedente amministrazione, oggi non si rispetta più sia nel provvedimento di convocazione del Consiglio comunale, sia nei manifesti che vengono affissi, si parla genericamente di interpellanze e comunicazioni, senza più indicare le generalità e l'argomento dell'interpellanza, che è ciò che prevede un nostro articolo, lo ribadisco, del regolamento, l'articolo 39. Quindi in realtà loro non possono dare lezioni di rispetto del diritto se sono i primi a non voler rispettare il diritto, perché hanno sempre paura che l'opposizione faccia conoscere alla cittadinanza le problematiche e tutte le loro pecche, le pecche che questa maggioranza continua ad avere e i ritardi che continua ad avere nell'amministrazione della cosa pubblica. Per questo argomento penso che ci sarà, perché ritengo che sia gravemente offensivo e lesivo della dignità dei consiglieri, del partito che rappresento, ma soprattutto dei tantissimi cittadini, oltre 3.000 che mi hanno votato e che hanno il diritto di sapere di assistere alle discussioni in Consiglio comunale, penso che ci sarà un'iniziativa pubblica, un manifesto e non escludo nemmeno un ricorso al TAR, perché secondo me il diritto non è quello che dicono loro, ma è quello che va a tutelare di più le minoranze, l'opposizione e in genere i cittadini e i consiglieri. Grazie ad Alessio Nitti.